Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che andremo a vedere oggi sono le tendenze energetiche per l'ultima parte del mese di dicembre, sono letture generali quindi vi ricordo che sono fatte per un collettivo, prendete solo i messaggi che vi servono e quelli che no, semplicemente lasciateli andare all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo vi consiglio di andare ad ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Bene. Mostrami Ariete, tendenze generali per l'ultima, grazie. Wow, il sole! Amici dell'Ariete, si finisce l'anno in modo solare. Quindi per qualcuno mi può parlare di quello che sono le amicizie, per qualcuno mi può parlare di quello che è uno sbocciare, un rinnovamento io direi, anche proprio a livello energetico. Il sole mi parla di quello che è un'energia interiore, mi parla di quello che è anche un bambino interiore. Andiamo a vedere nello specifico perché c'è questo sole per il segno dell'Ariete. Wow, cominciamo subito con una bella torre e un mago, quindi non male. La torre normalmente mi parla di quello che è la caduta dell'ego, piuttosto che un qualche tipo di avvenimento magari imprevisto che può un attimino scombussolare quello che sono i vostri equilibri, insomma. Asso di denari e il sette di bastoni. Per qualcuno questa torre può parlare anche di quello che è la fine di un certo tipo di relazione, potrebbe essere una relazione di tipo romantico oppure una relazione di tipo lavorativo o anche di amicizie, insomma. C'è un qualche tipo di avvenimento, insomma, importante che appunto crea un attimino di destabilizzazione. Per qualcuno potrebbe essere che questo evento c'è già stato, per qualcun altro invece si è, diciamo, proprio nella fase di questo evento. Abbiamo poi comunque anche il mago. Il mago mi parla di quello che in realtà è la vostra capacità di manifestare quello che voi volete per voi nella vostra vita. È una carta di forte potere comunque, è un uno, è una carta di inizio. Quindi poi si sa che dopo, diciamo, una fine, un qualche tipo di crisi, un qualche tipo di malattia potrebbe anche essere, c'è sempre quello che è un 6 di denari, c'è sempre quello che è un nuovo inizio, una nuova rinascita e guardate, c'è anche un asso di denari. Quindi qui me lo dice proprio forte che arriverà questa nuova fase, ok? L'asso di denari normalmente mi parla di quello che è un inizio in forma concreta, in forma, come vi posso dire, che ha una sostanza, ecco. Per qualcuno potrebbe anche rappresentare, 6 di coppe, per qualcuno potrebbe anche rappresentare quello che è un dono che arriva magari dall'alto, da qualche tipo di aiuto, da una persona magari dalla quale non ci si aspetta niente, insomma. Oppure potrebbe semplicemente essere un dono dall'alto, nel senso che è magari una nuova presa di consapevolezza, una nuova visione, si vede quello che è una nuova strada, la possibilità di questo nuovo inizio, ok? Abbiamo anche un 7 di bastoni, 7 di bastoni esprime un po' quello che è la vostra difficoltà a trovare la giusta direzione in tutto questo nuovo inizio, ok? Il 6 di denari comunque mi può parlare di quello che è il trovare, quello che è un equilibrio tra il dare e il ricevere, per certi versi mi parla anche di quello che è la generosità, ma sento che deve essere una generosità verso se stessi e non solo a livello economico, mi verrebbe anche da dire a livello di amore proprio che avete verso voi stessi, ok? Cercare di davvero non farvi influenzare da quello che sono le energie esterne, che è una cosa che io sento che in questo momento è un po' difficile per voi, probabilmente perché quando si è in un momento torre si ha bisogno di sostegno, quindi si fa affidamento anche sulle energie che circondano un pochettino. Allora poi abbiamo un 8 di spade, un altro sole, quindi abbiamo ripetuta la carta del sole e un 9 di pentacoli, non si vedono neanche tutte le carte, cerco di spostarvelo un pochetto. Quindi abbiamo questo 6 di coppe, il 6 di coppe parla di quello che è una sorta di nostalgia, una sorta di probabilmente qualcuno pensa molto in quello che è questo tipo di situazione passata, potrebbe anche parlarmi di qualcuno che torna dal passato o di un qualche tipo di energia legata all'infanzia. Sento con il sole che potrebbe essere un qualche tipo di, se vogliamo, illusione, progetto, pensiero che si aveva appunto nell'età dell'infanzia. Comunque vi sento in una fase molto mentale, avete una serie di pensieri circolari, direi che sono pensieri autolimitanti, vedete che la persona ha la benda sugli occhi, è come se il continuo a rimanere in questa sorta di pensieri fosse un po' un modo di, tra virgolette, autodistruggervi, mentre invece la stesa finisce con un sole e un 9 di pentacoli, quindi il 9 di pentacoli è una carta di forte appagamento, il sole è proprio questa esplosione, questa connessione con se stessi. Quindi io sento che poi alla fine di tutti questi pensieri il vostro vero se lo trovate, insomma. Andiamo a vedere nello specifico, perché abbiamo questa torre, per piacere, grazie. Allora, la torre è spiegata da un cavaliere di pentacoli, scusate, di bastoni al contrario e da un 2 di spade. Sento che per qualcuno è proprio la fine di un certo tipo di relazione, potrebbe essere una relazione di tipo passionale, oppure una relazione con una persona con la quale si condivide una passione, potrebbe anche essere un lavoro che vi appassiona molto, insomma. C'è sempre questa sorta di dubbio presente comunque in voi, inerente alla situazione che porta alla torre. E sento che per molte persone c'è la necessità di fare una scelta, può essere una, guardate, 3 di spade e la forza. Sento che per qualcuno c'è proprio bisogno di rendere pubblica, in un certo senso, questo tipo di sofferenza, ok? È come se con il mago ci dovesse essere la forza un po' di tirarla fuori. La forza appunto anche mi parla di quello che è il coraggio, il coraggio un po' di… si può parlare, non è che ci si debba scannare, nel senso… però sento che è un certo tipo di lavoro che richiede il mago, ok? Dovete in qualche modo cercare di buttare fuori questo tipo di sofferenza che avete dentro. Andiamo a vedere perché c'è l'asso di pentacoli, per piacere e grazie. L'asso di pentacoli è spiegato da un dieci di coppe e da una imperatrice. Quindi io credo che questo asso di pentacoli sia collegato a quello che era o è, insomma, un progetto a livello di due o più persone. Abbiamo anche un'imperatrice, quindi ho un progetto che già c'era, si pensava potesse, diciamo, espandersi, ok? Per qualcuno potrebbe riguardare proprio l'idea di fare una famiglia, di creare una famiglia, insomma, di allargare anche la famiglia. Sento che per voi è un desiderio, un'esigenza, un qualche cosa che voi vorreste, probabilmente è quello che sta cercando di fare questo mago, di manifestare questo tipo di energia, appunto. Andiamo a vedere. Il sette di bastoni è spiegato da un matto al contrario e da una regina di coppe. C'è qualcuno qui che non si fida delle proprie emozioni, non si fida dei propri sentimenti. Più che sentimenti, emozioni, sensazioni, anche intuito. Sento che è forte l'influenza che hanno gli altri a livello proprio cerebrale, ok? Quindi sento tanto rumore a livello di testa ma alla fine quello che importa in realtà è essere connessi con le vostre emozioni, con quello che sentite, cercare di capire quello che vi fa star bene, quello che non vi fa star bene. Allora, il 6 di denari è spiegato dalla luna e da un 9 di coppe al rovescio. Qui c'è qualcuno che nel profondo non si sente appagato. Probabilmente c'è qualcuno che non lo riconosce. In questo tipo di relazione, in questo tipo di compromesso, contratto lavorativo o situazione, insomma, c'è qualcuno qui che non ammette il fatto di non essere pienamente soddisfatto. È come se fosse un po' un lato in ombra, io direi. La luna mi parla sempre di quello che è l'inconscio, di quello che è un po', di quello che sono le immagini riflesse, ok? Perché la luna comunque brilla di luce, riflessa del sole e come in uno specchio le immagini riflesse sono sempre un po' distorte, non sono mai fedeli all'originale. Quindi è un po' come se ci fosse qualcuno che in un certo senso non è tanto onesto con se stesso per quello che riguarda il proprio sistema di valori, il proprio sistema di credenze, insomma. È come se si stesse mettendo un velo su quello che è il reale sentimento, la reale emozione che si sta provando in questo momento. Ci si sta un po' nascondendo come gli struzzi con la testa sotto la sabbia, io sento. Andiamo a vedere perché questo sei di coppe, per piacere, grazie. Sei di coppe spiegato da un re di pentacoli al contrario ed è un asso di bastoni. Probabilmente ci si aspetta l'arrivo di qualcuno. Il soccorso potrebbe essere, sento. Magari ci si sta aspettando l'aiuto di un qualche tipo di personaggio importante o un qualche tipo di figura all'interno della famiglia, insomma, all'interno dell'azienda, magari. Oppure con queste sei di coppe mi può parlare di quello che è la nostalgia di un personaggio come un re di pentacoli, quindi potrebbe essere quello che, se fosse una stesa di tipo romantico, potrebbe essere la persona magari involucrata in questa torre. Oppure potrebbe essere anche semplicemente una persona che quando si era piccoli ci confortava, magari era un genitore, magari un maestro. Ecco, per qualcuno mi potrebbe anche parlare di quello che è una non sicurezza nel fare dei passi avanti. Sì, c'è proprio questa insicurezza di base. Anche, sento anche una sorta di ingenuità, ok? Andiamo a vedere perché c'è l'otto di spade, l'otto di spade spiegato da un sei di bastoni al contrario e da un asso di coppe al contrario. sento che qui qualcuno sente di aver fallito. Sento proprio che è come se sentisse di essersi sprecato o sprecata un po', no? Il sei di bastoni è normalmente la carta che mi parla dei riconoscimenti, del successo. In questo caso è al contrario. Quindi sento che è come se questo tipo di proposta fosse stata una proposta che in realtà non ha portato gli sviluppi desiderati. Ecco. Andiamo a vedere il sole e il nove di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un cinque di spade al contrario. Wow, sono partite un sacco. Le recupero. Wow! Che cosa vedo? C'è un bel cavaliere di coppe. Allora, un cinque di spade al contrario, un cavaliere di coppe, un re di coppe, ricordiamo che qui è uscita la regina di coppe, e un tre di coppe. Io sento che qualcuno ha voglia di un qualche tipo di riconciliazione. Se non avesse nessuno, potrebbe proprio essere che in tutto questo marasma, sapete che quando si chiude una porta si apre un portone, che arrivi comunque quello che è una persona che potrebbe suscitare in voi un certo tipo di interesse. O potrebbero anche essere due persone, visto che abbiamo comunque due figure. Sento che comunque arriva quello che è, in un certo senso, la fine di quelli che sono i conflitti interiori. Ricordiamoci che la stesa finisce con un sole e un nove di pentacoli, che sono due carte di forte appagamento. Probabilmente qui qualcuno sta cominciando a diventare un po' onesto con se stesso, cercare di capire che cosa veramente lo fa felice, insomma, e quali invece sono le illusioni. E in tutto questo vedo che comunque arriva, o se fosse un... potrebbe anche essere un ritorno con questo sei di coppe, o comunque c'è un ritorno di quello che è la vostra persona di interesse. Scusate, ho bevuto un attimo. Se fosse una stesa di lavoro, per esempio, potrebbe tranquillamente essere un qualche nuova partnership, la chiusura di un contratto, l'aiuto che voi stavate aspettando da queste parti, dov'erre di pentacoli. Scusate. Probabilmente ho tossito due volte. Sento che c'è qualcuno qui che vorrebbe dire qualcosa, ma non gli esce. Ok? Quindi probabilmente potrebbe essere che questo cavaliere di coppe e questo re di coppe vorrebbero quello che è un ricongiungimento, un'unione, perlomeno una chiarificazione. Sento comunque un reincontro. Ripeto, se fosse una stesa di lavoro potrebbe essere una nuova partnership. Diciamo che comunque, cari amici dell'ariete, finirete l'anno in bellezza. Io sento che comunque, al di là di tutto questo, diciamo, confusione iniziale, l'anno finirà molto bene, io direi. Ok? Questo dono potrebbe anche essere riferito a quello che è un apporto di tipo economico e sento che per qualcuno potrebbe essere un premio di fine anno inaspettato. Ok? Bene, andiamo a vedere qual è il messaggio delle fatine per i nostri amici dell'ariete. Andiamo a vedere che messaggio hanno le fatine. Grazie. Wow. Fioritura. Bellissimo. Quindi anche qui, questo mago, questo asso di denari, tutto pensa a quello che è un nuovo inizio, ok? È proprio un nuovo inizio del vostro io interiore, del vostro sole, della vostra luce a livello energetico. È proprio un qualche cosa che, come vi posso dire? Sento che prenderete forza in voi stessi. Allora, la carta dice di imparare da quello che sono le esperienze e di far brillare la vostra luce, avete il sole, e di far brillare quello che è la vostra luce innata, la vostra luce interiore, su tutte le aree poco chiare di questo, di quello o degli altri. Quindi, in un certo senso, un po', come vi posso dire, un invito a portare luce, no? Dove magari non c'è un invito, insomma, ad aiutare gli altri, anche con la vostra esperienza personale, io sento, perché magari ci sono tante persone che sono nella vostra situazione e che in questo momento non hanno il coraggio di guardarsi dentro. Io sento che il lavoro, questo tipo di lavoro che state facendo, sicuramente vi porterà a quello che è la luce del sole. Vi ricordo che il sole ce l'avete anche qui, eh? Quindi, fioritura, scusate, fioritura. Bellissima carta. Andiamo a vedere cosa hanno da dirvi i tarocchi di Osho. Andiamo a vedere un paio di carte per voi, per darvi qualche consiglio aggiuntivo. Un paio di carte per, grazie. Allora, abbiamo rallentare, li metto qua, ok? Il coraggio, che è la carta della forza, e ce l'avete, ok? E essere ordinari, ok? Quindi sento che per certi versi è come se doveste avere un pochettino il coraggio, la forza di vivere questo processo di dolore, ok? Ve lo dice anche qua il mago. Dovete manifestare, rendervi conto, accogliere quello che è questo tipo di dolore che vi ha creato la torre e solo da lì poi si inizia a fare un lavoro di presa di consapevolezza. Solo da lì si inizia a prendere contatto con quello che sono le vostre emozioni, i vostri bisogni anche. E il coraggio mi parla proprio di questo. E anche qui, come in questa carta, mi parla di fioritura, perché c'è questa piantina che sta cercando di sbocciare in mezzo a tutte le rocce. Quindi si tratta proprio di rifiorire di nuovo, trovare il coraggio come un fiore. Semplicemente il fiore si limita a nascere, crescere e sbocciare. E così voi dovete fare. E l'essere ordinari mi mette proprio l'accento su quello che è il prendere, lo svolgersi della vita dei tutti i giorni, lo svolgersi della vita quotidiana come una meditazione. Cercare di godere a pieno di tutto quello che si fa, di essere grati di tutto quello che si ha. Insomma io sento che c'è una sorta di energia che deve, come dire, è un po' come se dovesse lasciare andare il controllo. È un po' come se dovesse semplicemente lasciare che le cose facciano il loro percorso, insomma. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio per gli amici dell'Ariete. Andiamo a vedere che cosa hanno da dirvi queste altre fate. Tutte carte di fate, io. Ok. Due carte, grazie. Allora, luce interiore e infatti avete due volte il sole, quindi bellissima. Vedete che, non so se si vede bene, ha tutte queste, diciamo, lampadine accese, ok? Quindi mi parla anche di quello che ha le mani anche accese, un po' come se avesse tutte queste fonti di energia e attraverso le mani la può dare. Mi fa venire molto in mente gli operatori di Reiki, no? Noi persone che facciamo Reiki, diciamo, usiamo le mani appunto per creare guarigione. Quindi parla proprio di quello che è il portare la vostra luce interiore, come vi dicevo prima, anche proprio a esteriorizzare quello che è il vostro percorso di vita, perché come voi avete trovato il vostro sole, potrebbe essere che anche altri, grazie a voi, trovino quello che è il vostro sole. E poi mi parla di fiducia, che è un po' quello che vi dicevo prima, di lasciare il controllo, di lasciare che le cose facciano il loro corso, il loro percorso. Ogni cosa arriva quando il momento è giusto per voi. Quindi l'universo sa perfettamente quando siete pronti per ricevere un certo tipo di notizia o di avvenimento. Bene, cari amici della rete, io spero che in qualche modo la lettura abbia potuto aiutarvi. Se sì, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e condividete. Io vi ringrazio tantissimo per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!